Palazzina di soli tre unità, in borgo, appartamento al primo piano con ingresso, sala, cucina separata, due ampie camere da letto, bagno finestrato, terrazzo, doppio posto auto coperto e giardino comune. Ciao, sono Alan di Garoni Immobiliare e oggi ti accompagno a vedere questo appartamento in vendita. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Sono sicuro che questa visita digitale ti ha incuriosito, perciò contattaci e ti accompagneremo molto volentieri. Ci vediamo in visita.